Un vero e proprio arsenale, anche di armi da guerra, in una masseria nelle campagne di San Marco Illamis. E' quanto scoperto dai carabinieri del comando provinciale di Foggia, dai colleghi dello squadrone e li portato cacciatori di Puglia, che in località Coppe Casarinelli, nelle campagne del centro garganico, hanno perquisito una masseria di proprietà di un 24enne incensurato, arrestato con le accusi di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo colandestine con relativo munizionamento, nonché per il possesso di un esemplare imbalsamato di animale appartenente ad una specie protetta. Il giovane, dopo la convalida dell'arresto, è stato rimesso in libertà. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno denunciato anche il fratello del 24enne, il vero possessore delle armi. Nel corso di questi controlli all'interno dell'abitazione, vicino ad alcune macerie e muretti a secco, in una cavità carsica, i militari hanno trovato due fucili calibro 12 perfettamente efficienti, di cui uno con matricola brasa, una pistola semi-automatica calibro 9 Parabellum, catalogata come arma da guerra, perfettamente efficiente anch'essa con il numero di matricola brasa, una pistola lanciarazzi e circa 600 cartucce per fucile e pistole. All'interno della casa, poi, è stato trovato anche un esemplare imbalsamato di faina, appartenente ad una specie protetta del quale è vietato il possesso. Tutto il materiale è stato sequestrato e le armi sono state inviate agli esperti del RIS di Roma per verificare se siano state utilizzate nella commissione di qualche reato messo a segno in capitanata.